In Emilia Romagna continua senza sosta la lotta contro il fango e contro le frane. Siamo collegati con l'inviato. Giuseppe Laveni, a te Giuseppe, in diretta. Oggi qui è arrivato il ministro dell'Interno Piantedosi, possiamo vedere le immagini. È stato a Cesena, nella scuola di polizia, che è stata pesantemente danneggiata due settimane fa dall'esondazione della Savio. Questa struttura va recuperata e una struttura storica, ha detto il ministro dell'Interno, con lui il nuovo capo della polizia, Vittorio Pisani. È già cominciata qui da alcuni giorni quella che viene definita la fase 2. Bisogna curare e recuperare un territorio profondamente ferito. Ci sono degli esami che vengono condotti anche lungo la costa per capire il livello di balneabilità su 98 luoghi che vengono esaminati. 18 sono risultati irregolari. I comuni emetteranno quindi dei divieti in attesa di nuovi esami. Intanto questa fase 2 prevede anche delle riaperture. Oggi è stato riaperto un ospedale e noi c'eravamo.